Direttamente da Canale 5 qui a Talenti, Vigne Nuove e il Tigre di avanti un altro con il carissimo delegato qui, coordinatore della protezione civile. Allora caro che mi racconti? Ti racconto che innanzitutto grazie, grazie a tutti quanti per essere venuti, grazie a voi e un grazie al Presidente che mi ha dato fiducia quasi 120 giorni fa aprendo un distaccamento qui al terzo municipio e mi piace fare del bene, ci piace fare del bene, ci piace portare un sorriso alle persone che sono più in difficoltà di noi. Questo te lo dico proprio che mi asce dal cuore perché mi trovo anche io in difficoltà tante volte a discutere a casa perché non sto mai a casa, io passo la maggior parte del tempo dentro l'associazione perché io amo l'associazione, amo fare del bene per il prossimo e quindi niente, speriamo che... una passione, una passione, ho fatto che nasce fin da bambino, facevo l'animatore, sono cresciuto con i bambini e oggi mi trovo a gestire un bellissimo gruppo, una bellissima realtà a cui credo, alla quale credo e ringrazio tutta la popolazione, ringrazio tutti quanti. Ci farebbe molto piacere organizzare qualcosa per voi e farlo gratuitamente come lo facciamo per tante altre associazioni con anime di carta, con Cd News, Radio TV e Paesi Uniti della Sabina. Sono altre tre grandi realtà che aiutano il territorio e con voi potremmo fare veramente tanto per la gente. Benissimo, anche a noi farebbe piacere, più siamo e meglio stiamo. È vero Tigre? Eh sì, è vero, perché lui ha pienamente ragione, poi veramente sul fatto di far ridere la gente, una missione, se avessi donare agli altri, è la cosa più bella e più ricca che noi abbiamo, bravo, bravo. Mi dicono che ho un bellissimo sorriso e quindi coinvolgo le persone con il mio sorriso, ma io sono spontaneo così, quindi portare un sorriso è qualcosa di meraviglioso, portare un qualcosa a chi veramente sta in difficoltà per me è qualcosa di grandioso, di più, di più, di più. È vero, hai ragione. È proprio il caso di dire? Eh sì, perché il sorriso è la chiave del cuore delle persone, è quello che lui voleva dire. È vero, è vero. Ma alla fine è la stessa cosa. Salutiamo Paolo Bonolis. Ciao Paolo, ciao Luca ovviamente e tutti voi di Avanti in Altro, speriamo di vederci presto. E naturalmente Avanti in Altro, il prossimo della Protezione Civile che vogliamo intervistare.